Ciao ragazzi, oggi pomeriggio andremo a Bergamo per incontrare altre due persone, ci hanno contattato Ecco chi mi aiuterà oggi nella prossima puntata, presentatevi Ciao ragazzi, sono Manuel e sono felice di questo documentario che sta facendo il nostro ragazzone qua, Davide Ciao ragazzi, io sono Francesco, sono felice di aiutare il mio mito Davide e adesso sto facendo un viaggetto stile random A Bergamo, a vedere i due ragazzi che hanno chiamato Ciao ragazzi, sono quasi arrivati, sono qui in Bergamo, guardate che bello, guardate che bello C'è un calzo Ecco il nostro primo passo a Bergamo Siamo a Bergamo noi, alla stazione Ci aspettiamo tra l'altro Sono le 45 Siamo a Bergamo noi, a Bergamo noi Va bene, a posto dopo Ciao Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Ecco l'abbiamo trovata questa previsionosa Ecco da qui Ciao Mania Ciao Uuuuh Adesso sbettiamo l'altra Ma fa breve arriva Dov'è? 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 Massimo ci vuoi diventare emozionato Ahahahah Finto lì ventinio ragazzo Mi prendi che fra poco arriva Prendi questo Prendi questo Prendi questo qua con l'Aito Con l'Aito Ehm 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 Mi guardano male Ehm Ma dove è? In culo Con gli occhiali Cancello Perché c'è un marco Vabbè io vado a cuore In culo In culo Vieni Ecco voi L'esercita L'esercita Ecco Disagiato Proprio non segnerete Ed è un percorso Saremo in giro Saremo in giro Io due Saremo in giro Vai salutatemi No Non devi venire Dai Timo Sì Sì Un abbracciato Un abbracciato Un abbracciato Un abbracciato Eccoci a Bergamo Segui la mano, segui la mano Io l'ho fatto da sola, c'era più a me O un vermitano che continuava a provarci Dai Che continuava a provarci Puoi spegnere quella caffè Oh la prima siga insieme Dai figa, ho anche gli occhiali Monge che non esprime emozioni Ovviamente sto vedendo quel tipo in bici lì Dove? Ma non vi sembrano le stalle americane no? Ma là sopra è Bergamo Alto Dove c'era l'ospedale vecchio Ma ma hanno detto che non è qua Bergamo Cioè Bergamo centro È più in centro Questo qua è Sto anche io andare in bici No Però potevamo venire anche noi in bici Allora le tue emozioni Ania Quali? Le tue emozioni adesso che ci vedi Non ci hai visto Che bravura deve andare dai Ok Te Sere Cosa? Benizi Le tue emozioni? Una merda Perché? Perché preferivo non vedervi Tu sei una merda No te si è Figlia di Scusa Mongi le tue emozioni Mongi le tue emozioni Non esprimo sentimenti E' un robot Ma sembra spostare Cune? Adesso che hai avuto Quest'emozione Sembra di essere in un altro pianeta Io te l'ho in un'ora Devo andare Dai 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 Non lo so Volevo provare sta cosa Eeeh Volevi provare Ehi Ehi Dai Mongi di qualcosa Ma siamo qui Arrivati a Bergamo Destinazione 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 Siamo Al mercatino C'è qui la sera E' solo che non si fa riprendere Che cazzo stai facendo Dai Maru Vedi dove c'è tutto il posto dei cavalli Dove ci sono le pontane Sì Sì Ah è questo Ah è questo Sì Sì Vai Manu Mi culo Sai Eh ci stiamo antipari Sere Sere ci abbandona così Oh yes Un bel culo Messo non vuole un po' di perra Io No Ma mettiamo un po' di carne Ancora Sì non è che mi devi spolpare tutta No ma la Sere si sta facendo coltivo No No Luca No Luca Stiamo in giro Che vuole filmare? No ma Qua è aperto appena gli occhi di mattina Dammi una pietra Luce Ci ossiedi Calda Tanto calda? Basta Ma l'acqua non funziona No Dai no dai No non mi va Lei Recupero Nicole Recupero Nicole Recupero Nicole E ci vediamo al giorno Sì Sì Ciao Ciao Recupero Nicole Tu puoi non farmi i video che mi girai cazzo Ma dimmi cosa che bagno Che bagno Eh? Che bagno Eh bagno Che bagno Che cazzare Il bagno delle spiagge Lido Perché? Che bagno Che si chiama bagno? Sì sì bagno Ah sì Credevo tipo il cesso E poi qua di Bergamo Che è venuto giù al mare quest'anno Qua 500 Ci ha portato un 500 in quattro E la trova così Ma come il 500 in quattro? Dove siete andati a ballare? Aspetti fini Che bagno Questa è andata a La Villa delle Rose Ah sì E quelle ciao Quelli non ci piace Noi andiamo dove non si paga Eh vabbè ok Però ti farò la prima vacanza che mi c'è da solo adesso E ci dobbiamo andare Questa è andata all'altro mondo Ah Quale? Poi ci saranno due gratuite E sei già tornato? Dai smetti la mano Oh è bellissimo questo fotocamera Però erano ricciole Ah ho capito fuori C'è stato Il fatto che vende una cosa di Biff Così? No le cuffie Cune 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 Saluta Cazzi ne so Fimmo un boccato Eccola qui la Rambla Non ci vediamo qui Dai Sono in mezzo ai mercatini di Bergamo Siamo carichi Siamo carichi Siamo carichi C'è stato carico il caffè C'è stato carico C'è stato carico C'è stato carico Qua Dici la La canzone Un italiano su mille ce la fa Ce la fa sopravvivere Guarda che bello 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 Pestato il caffè Guarda che là c'è Pingu Sì C'era poco il mante della tosse Diciamo i mercatini Eccoci ancora qua Vicino a una fontana più famosa del mondo Ma zio Il biglietto vale Quanto scusa E' un'ora E' un'ora E' un'ora E' un'ora E' un'ora E' un'ora Guardate quanta gente E' un'ora E' un'ora E' un'ora E' un'ora Versione New York Versione Versione Pakistan tutta nera E' un saluto E' un saluto Telle camera nascosta Telle camera nascosta Aspetta se vuoi tornare Mi lasci stare per tutti Lascierti questa audienza No, no E' sto facendo delle camera nascosta Che dica Saluta qualcuno Scommodo Ammas Ancora qua a Bergamo La festa non finisce Siamo l'Alba Siamo l'Alba Siamo l'Alba Siamo l'Alba Siamo l'Alba E adesso Mungi è felice Siamo lì Siamo lì Dopo da lui Abbiamo passato la bella sonata Grazie Ania Grazie Serena Ci siamo divertiti Mi dispiace per Serena Ania che è stata poco tempo Adesso Adesso Ci vediamo questo viaggio Verso Concorezzo Molta Molta Poi prendiamo il palo Per Concorezzo Una specie Dentro luce Unico Unico Grazie a tutti E il momento Unico 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 Ma Unico Grazie.